Peccato è che non ci fossero i quei Yen. Sarebbe stato bello mangiarti un'ultima volta oggi. Comunque Giorgio, allora, l'interpunto a cosa serve? L'interpunto è semplicemente un segno di interpunzione tra lo spazio e la virgola. Un po' come il punto e virgola è un segno di interpunzione a metà tra la virgola e il punto. A cosa serve l'interpunto? Serve la stessa cosa a cui servono tutti i segni di interpunzione, chiarire il senso di un testo scritto. Ma ci sono tantissimi esempi con la virgola, di frasi che se tu cambi una virgola, se togli una virgola, se sposti una virgola, cambia completamente il senso della frase. Però ci sono anche delle frasi, delle frasi scritte, che con i segni di interpunzione attuali, con i segni di punteggiatura attuali, non siamo in grado di esplicitare quale dei due sensi stiamo intendendo. Un esempio classico è quello una vecchia porta la sbarra. Una vecchia porta la sbarra. Se te le dico a voce capisci immediatamente che sono due frasi diverse, non te le devo spiegare. Una vecchia porta la sbarra vuol dire che c'è una signora anziana che porta una sbarra. Se invece ti dico una vecchia porta la sbarra, ti sto dicendo che c'è una porta antica che sbarra magari l'accesso a una stanza, che impedisce l'accesso a una stanza. Come si fa a esplicitare questi due significati in un testo scritto? Semplicemente introducendo un segno di interpunzione più piccolo della virgola. Perché più piccolo della virgola? Perché non puoi metterci una virgola lì. Perché le virgole non possono dividere il soggetto dal verbo o il verbo dal complemento oggetto. Non possono dividere. Ad esempio una vecchia virgola porta la sbarra. Non puoi farlo perché stai dividendo con una virgola il soggetto dal verbo. Invece con un interpunto, che è appunto una pausa minore della virgola. Questo riesce a chiarirlo. Una vecchia interpunto blocca la sbarra. Una vecchia porta la sbarra vuol dire che c'è una porta antica che sta impedendo l'accesso. Capisci, no? In questo modo l'interpunto serve proprio a chiarire questi due significati. È una cosa utilissima. È utile come è utile anche la virgola. Quindi è una cosa... Certo che non esiste, però è importante introdurla perché riesce a dare chiarezza. Se non esistesse la virgola, bisognerebbe inventarlo, no? Proprio perché, per le ragioni, perché appunto le frasi cambiano di significato senza virgola. E allo stesso modo queste frasi qua, senza interpunto, cambiano di significato, ma l'interpunto è anche una seconda funzione, non solo di esplicitare questo. È anche in grado di esprimere i cambi di tono. Oppure quando tu vuoi staccare, vuoi dare rilievo a dei particolari sintagmi. Ad esempio, quando tu dici, ecco con questa cosa qui, l'oppiomane viveva solo con due cani. Allora, se tu dici l'oppiomane viveva solo con due cani, senza virgola, non si capisce se l'oppiomane vivesse solo, che non aveva nessuno, tranne due cani, oppure se vivesse soltanto con due cani, viveva solo con due cani, cioè aveva due cani, ma magari aveva anche la... nel senso che non aveva tre cani, ma magari viveva solo con due cani, magari aveva anche figli, moglie, e pure cognati insieme in casa. Capisci? Quella è una frase ambigua, senza un segno di... senza appunto l'interpunto. Ci puoi mettere la virgola, puoi dire l'oppiomane viveva solo, virgola con due cani. Allora lì è evidente che non si tratta di soltanto, solo non ha il senso di soltanto, ma vuol dire che era solitario l'oppiomane. Però la virgola stacca troppo, stacca troppo, capisci? Se tu dici l'oppiomane viveva solo, virgola con due cani, è un po' patetica come frase, d'accordo? È un po'... senti, no? l'oppiomane viveva solo, virgola con due cani. È una cosa un po'... un po' patetica, vero? Se tu invece usi l'interpunto, che è una pausa breve, è solo per dire, guardate che solo e due cani non è che è una pausa per staccare... è una pausa stilistica, è solo per staccare i concetti, è solo per dire che questo non è da interpretare come soltanto, ma è da interpretare come solitario. L'oppiomane viveva solo con due cani, non è che sto dicendo... quando io dico questa frase non è che sto dicendo l'oppiomane viveva solo con due cani, solo con due cani... lì sto usando la virgola, invece se dico l'oppiomane viveva solo con due cani è una frase diversa, sai, è una frase più descrittiva, non c'è un tono patetico. D'accordo? Quindi in questo caso si dovrebbe avere la possibilità appunto di usare l'interpunto, o puntino, o punto in alto, lo puoi chiamare come vuoi tu, però forse è meglio interpunto o anche puntino è carino, però con questo segno di interpunzione riesci a chiarire questo concetto, ma anche tanti altri, come io guido la macchina, pensa io guido la macchina. Tu puoi dire io interpunto guido la macchina, e qui enfatizzi che sono io a guidarla, mentre se tu dici io guido interpunto la macchina, vuol dire che con la macchina io la guido e magari non sono un passeggero, ok? Così, sai, appunto, di solito vengono trattati come ignoranti quelli che mettono le virgole in questi casi, sai, io virgola guido la macchina, ed è giusto perché la virgola è una pausa troppo pesante, diciamo, in questi casi, però bisogna capire che la loro istanza, l'istanza per cui mettono la virgola, non è priva di fondamento, hanno l'intenzione di staccare quel concetto lì, staccare quel particolare sintagma, ad esempio il pronome, vogliono staccarlo, ed è un'istanza giusta, è un'istanza espressiva perché io guido la macchina, se lo dico a voce tu capisci, io guido la macchina, io guido la macchina, sono due cose diverse, o io guido la macchina semplicemente, senza nessun interpunto, sono cose che nel parlato te ne accorgi facilmente, nello scritto non si riescono a esprimere se non hai appunto questo questo segno nuovo, necessario, diciamo. Quindi trovando questo si riesce a esprimere appunto questo concetto che a molte persone preme fare, solo che non sanno che in realtà non possono usare la virgola. Però comunque il fatto che vogliono esprimerlo è effettivamente un'istanza corretta. Sai, tante volte appunto si usa la virgola sproposito proprio perché si vogliono staccare dei concetti che in realtà la virgola dovrebbe, è una pausa troppo pesante come l'oppiomane appunto, l'oppiomane viveva solo, virgola, con due cani, è un po' troppo patetica come frase. Poi c'è anche l'oppiomane, punto e virgola, l'oppiomane viveva solo, punto e virgola, con due cani. Qui già cambia ancora la frase, punto e virgola vuol dire che l'oppiomane viveva solo, è un dato di fatto, e poi ci si ricorda, sì, no, non del tutto solo perché aveva anche due cani. Non è patetico in questo caso, in questo caso è come un appendice non necessario che si aggiunge. Il punto, no, il punto sarebbe ironico invece, sensualmente sì, l'oppiomane viveva solo, punto, con due cani, suona o davvero ancora più patetico della virgola o ironico, quasi ironico direi. Invece la virgola effettivamente sì è un po' patetica, sembra l'oppiomane viveva solo, virgola con due cani. Meglio l'interpunto se tu intendi dire che l'oppiomane viveva solo con due cani, cioè una frase descrittiva. Puoi anche usare la virgola, ma appunto solo in certi contesti. Però se non esiste l'interpunto sei costretto a usare la virgola, oppure a fare un giro di frasi, l'oppiomane viveva in solitudine con due cani. Devi ricorrere a questi giri di frasi che invece non sono necessari, basta introdurre un segno di punteggiatura corretto, un nuovo segno di punteggiatura. E' questo che serve l'interpunto, serve proprio questo. Andiamo? Grazie.